Musica Rifiuti 27 milioni di euro di danni in Campania, i comuni della provincia coinvolti. Casi di infezione da lingua blu nel Vallo di Diano. Stati Uniti, emozione e grande accoglienza per Di Brizzi, uomo dell'anno 2016. Sassano, dal 20 al 24 luglio, terzo Sassano Beer Fest, ospite la banda Bardot. Arbitri, ufficializzate le date dei raduni precampionato. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. Nel 2014 l'Italia fu sanzionata dall'Unione Europea per oltre 200 discariche non conformi alle direttive europee sui rifiuti. Sono stati individuati già enti competenti responsabili dell'omessa bonifica. Vediamo quali sono i comuni valdianesi coinvolti. 27 milioni di euro sarebbe la somma che alcuni enti campani hanno ricevuto per bonificare le discariche di rifiuti speciali individuate e sequestrate nel corso del periodo a cavallo tra il 2007 e il 2014. In realtà l'opera di riqualificazione non è stata mai eseguita, infatti le indagini sviluppate dalla Guardia di Finanza hanno consentito di accertare che i vertici degli enti competenti non hanno adottato tutte le misure necessarie, mettendo gravemente a rischio la salute dei cittadini e arrecando gravi danni all'ambiente. I progetti di bonifica erano stati ampiamente finanziati dalla Regione Campania nel giugno del 2013, attingendo alle risorse del POR Campania 2007-2013. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Corte dei Conti Donato Luciano, riguarda dunque i rilevi mossi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea allo Stato italiano per violazioni riguardanti 200 discariche non conformi alle direttive europee sui rifiuti. Di queste, 48 si trovano in Campania. I finanzieri del nucleo Polizia Tributaria hanno calcolato discarica per discarica l'impatto della nostra Regione sul totale della multa pagata dal Governo. Dal 2014 lo Stato italiano ha versato all'Unione Europea oltre 113 milioni di euro, di cui 27 circa riguardano le discariche campane. Sarebbero in arrivo una serie di inviti a dedurre per 48 tra sindaci e amministratori, tra i destinatari anche Stefano Caldoro e Antonio Bassolino, oltre ai due ex Presidenti della Regione Campania, anche l'ex Assessore all'Ambiente Giovanni Romano. Gli enti in provincia di Salerno che figurano tra i 48 della Campania sono Baronissi, Bello Sguardo, Caggiano, Centola, Contursi Terme, Giffoni, Valle Piana, Gioi, Magliano Vetere, Pagani, Pisciotta, Sacco, San Mauro Labruca, San Pietro, Altanagro, Sant'Arsenio, Sarno, Stio e Teggiano. Ed ora la sanità, dopo l'ultimo aggiornamento dell'albo, la Regione Campania ora dovrà provvedere alla selezione dei profili giusti per gli incarichi di direttore. In corsa anche 15 profili salernitani, tra cui il primario di oculistica dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Jovieno. La legge regionale approvata lo scorso maggio dalla maggioranza relativamente alle procedure di nomina nella sanità campana aveva destato non poche preoccupazioni da parte della minoranza che non aveva mancato di criticare aspramente le decisioni accentratrici della maggioranza regionale. Proprio a partire da questa nuova legge, che a breve saranno nominati 15 direttori generali da insediare in altrettante aziende sanitarie e ospedaliere campane, ma anche policlinici universitari. Come riporta l'edizione odierna del mattino, eccezione fatta per i vertici dell'azienda dei Colli e dell'ospedale Santo Bono, la Regione Campania dovrà nominare tutti gli altri direttori. Sono oltre i 550 i curricula che il governatore della Regione Campania dovrà leggere prima di procedere alle nomine, nomi che sono inseriti nell'albo regionale, aggiornato poco tempo fa. Sarà sicuramente una procedura più snella, con i manager che dovranno raggiungere gli obiettivi fissati, altrimenti in caso di inadembienze si cambierà pagina. Tra i 115 nomi nuovi inseriti nell'ultimo aggiornamento spiccano ben 14 professionisti salernitani. Tra questi Raffaele Delia, ex direttore sanitario a Sapri, Salvatore Ioveno, primario di Oculistica all'ospedale Luigi Curto di Polla, Mario Minervi, direttore sanitario ad Ebbori, ed Arissi De Tortora, direttore sanitario a Scafatti e già direttore sanitario all'ospedale Luigi Curto di Polla. Sarà una scelta importante, quella che dovrà compiere il governatore, alla luce dell'attuale momento in cui si trova la sanità campana, alle prese con un piano ospedaliero tutto da attuare. Ci trasferiamo ora a Sant'Arsenio, dove arriva il pesante sfogo del sindaco Antonio Coiro su Facebook. A distanza di quattro mesi dall'ordinanza di abbattimento dei 37 alberi lungo la strada provinciale, i lavori sono ancora bloccati. E si chiede il sindaco Coiro se l'autorità pubblica di pubblica sicurezza e il prefetto siano zimbelli assoggettati alle disposizioni di un privato cittadino. Il perché lo scopriamo nel servizio. Una vicenda che negli ultimi mesi ha messo al centro del dibattito ammigdalisti e amministratori locali, coinvolgendo anche la prefettura di Salerno, il corpo forestale, la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Campania e la comunità montana Vallo di Diano, ma ancora nulla è stato risolto. Stiamo parlando della questione legata all'abbattimento stabilito dal comune di Sant'Arsenio degli alberi sulla strada provinciale, in quanto pericolosi per la pubblica incolumità. Dopo i primi abbattimenti i lavori si sono interrotti, la visita dei funzionali della provincia, conclusasi con una relazione tecnica di conferma delle necessità di abbattimento degli alberi interessati, non è seguita poi alla ripresa delle operazioni. Una situazione insostenibile che ha portato il primo cittadino di Sant'Arsenio, Antonio Coiro, ad esternare tutto il suo disappunto in un post sul Facebook, fino a quando dovremo far ridere dello Stato. Questo l'incipit del post in cui il primo cittadino ripercorre tutta la vicenda e dove si chiede l'esecuzione dell'ordinanza è stata compromessa dall'intervento di chi? Carabinieri di Sala Consilina, forestale dello Stato di Montesano e Aslo di Salerno, con interventi di accertamenti strumentali, ma sufficienti a determinare l'abbandono del cantiere. Tutti sollecitati ed eseguiti su segnalazione di un privato cittadino. La ripresa del cantiere, prosegue Coiro, dopo qualche mese di interruzione è stata compromessa dalle minacce del medesimo cittadino, che minacciava ulteriori interventi da parte dell'ARPAC ed altri. Ci si chiede, conclude il sindaco di Sant'Arsenio, se le autorità di pubblica sicurezza e il signor prefetto siano degli inzibelli soggetti di interventi ostativi e non doverosamente collaborativi delle strutture dello Stato, assoggettate alle disposizioni di un privato cittadino. Un duro a fondo del sindaco Coiro, che ricordiamo lo scorso 4 marzo, aveva ordinato l'abbattimento dei 37 alberi lungo la strada provinciale. Cambiamo argomento, sono stati registrati diversi casi di infezione da lingua blu nel Vallo di Diano, nessun grosso allarme però secondo la Col di Retti. Sono tantissimi casi di morte per Blu Song, la malattia virale degli ovini registrati sul nostro territorio. L'epidemia ha colpito 30 allevamenti tra il Vallo di Diano e l'Alto Tanagro, con circa 200 ovini abbattuti, come riporta il quotidiano La Città di Oggi. La febbre catarrale colpisce bovini, ovini e caprini attraverso punture di insetti, pericolosa per gli animali ma non per l'uomo. Sono minuscole zanzare, i culicoidi, che dopo aver succhiato il sangue di animali malati o portatori, sono in grado di trasmettere l'infezione ad altri allevamenti. I venti possono trasportare gli insetti per lunghe distanze, favorendo così la diffusione geografica dell'infezione. In Italia la malattia è arrivata nel 2000, probabilmente a partire dal continente africano. In questi giorni alcuni casi sono stati riscontrati proprio nel Vallo di Diano e gli allevatori sono molto preoccupati, ma non c'è alcuna allarme, spiega il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano, anche se l'attenzione deve essere mantenuta sempre alta e bisogna affrettare l'arrivo dei vaccini. Grazie all'opera di Coldiretti Campania, la Regione ha dato l'ok all'acquisto dei vaccini necessari. Adesso il punto è dove trovarli. Siamo in costante contatto con il responsabile del servizio veterinari dell'ASL e speriamo di sbloccare in tempi brevi questa situazione. La mancata vaccinazione continua tropiano, oltre alla morte degli animali ne compromette la vendita, provocando il blocco delle movimentazioni e creando un serio impatto socio-economico per gli allevatori. Al momento comunque non vi è nessun allarme. Una volta reperiti i vaccini si potrà procedere con una campagna di vaccinazione mirata. Bisogna però fare in fretta perché la malattia che interrompe la produzione di latte e provoca la morte degli animali è facilmente trasmissibile anche a causa delle alte temperature di questo periodo. Cambiamo argomento. Le famiglie possono decidere di riconoscere dei contributi per le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari a patto che siano volontari. Lo ha confermato il giudice di pace di Eboli a seguito di un ricorso presentato da un genitore di un ragazzo a cui era stato chiesto il versamento di una somma di denaro pena l'impossibilità del ragazzo a partecipare ai laboratori didattici. Il giudice di pace di Eboli ha condannato la scuola. Agli studenti non può essere impedito di partecipare alle attività in caso di mancato versamento di un contributo. Solo contributi volontari alle scuole lo dice il regolamento scolastico ministeriale non sono consentite l'inchiesta di esborso di denaro di qualsiasi cifra per l'effettuazione di attività scolastiche e soprattutto la scuola non può richiedere somme di denaro a sostegno di tali attività. Lo ha stabilito il Ministero dell'Istruzione e lo ha confermato con sentenza il giudice di pace di Eboli con una sentenza di alcuni giorni fa in cui condannava una scuola di battipaglia al pagamento delle spese processuali. Il fatto che ha poi scaturito il ricorso in giudizio è avvenuto due anni fa quando la scuola frequentata da un ragazzo aveva richiesto il pagamento della somma di 50 euro per consentire al giovane studente di frequentare le attività laboratoriali della sua scuola. Da ciò il ricorso in giudizio della famiglia del ragazzo con la decisione del giudice giunta in questi giorni che è scaturita dal regolamento visibile a tutti sul sito del Ministero dell'Istruzione nella sezione Relazioni con il pubblico. Nel regolamento relativo alle tasse e contributi scolastici viene chiaramente riportato quali sono le spese che una famiglia deve sostenere per l'istruzione del proprio figlio quindi le tasse che sono riconosciute quali ad esempio la tassa di iscrizione la tassa di frequenza la tassa del diploma e altre. Nella stessa sezione viene chiaramente esplicitato che alle famiglie non può essere richiesto alcun tipo di contributo ma che vengono ammessi solo i contributi volontari di carattere collaborativo finalizzati ad un miglioramento della qualità della formazione. Ciò però non deve essere ritenuto elemento essenziale per la partecipazione e l'iscrizione alle attività curriculari ed extracurriculari. Un verdetto quello del giudice di pace che secondo quanto riportato dal quotidiano il mattino e ne dico la ieri potrebbe far discutere e potrebbe essere di interesse per numerosi istituti scolastici aprendo un ampio dibattito sull'opportunità o meno di richiedere sostegno alle famiglie per il miglioramento della qualità formativa dei ragazzi. Anche la scuola infatti risulta negli ultimi anni vittima dei tagli che vengono effettuati dal governo. Intanto però le richieste e gli obblighi per gli istituti scolastici aumentano. Resta comunque vivo il principio della libera formazione dell'obbligo e questo impedisce quindi alle scuole di richiedere somme di denaro fuorché per le tasse previste dal regolamento ministeriale. Tutti gli altri contributi che possono comunque essere riconosciuti e sono previsti dallo stesso regolamento devono avere carattere di volontarietà. Deve essere la famiglia liberamente senza dover ricorrere nel rischio che il proprio figlio possa partecipare all'attività scolastica a voler elargire il contributo. Si legge infatti nel regolamento ministeriale eventuali contributi possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie con spirito collaborativo e nella massima trasparenza partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni per raggiungere livelli qualitativi più elevati. Nel caso della scuola di Battipaglia sembra che la direzione scolastica avesse fatto riferimento al regio decreto del 1924 in cui si disponeva che i consigli di amministrazione del singolo istituto potevano richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio esercitazioni oppure altro titolo. Andiamo avanti venerdì prossimo 7 luglio alle 19 presso la Bibliomediateca comunale di Polla si terrà la tavola rotonda dal titolo Siamo minori ma non cittadini minori organizzato da Accidento Verde Blu e la città educativa in occasione dell'attuazione del progetto La Vacanza del Sorriso 2016 L'incontro vedrà gli interventi del sindaco di Polla Rocco Giuliano del responsabile del progetto Cilento Verde Blu Giuseppe Damiani di Teodoro Stoduto responsabile provinciale dell'unità operativa pediatria Nido dell'ospedale Luigi Curto di Polla Angelo Siga delegato provinciale Scuola Unicef Campania e Don Vincenzo Federico Vicario Episcopale dell'area sociale a coordinare i lavori il referente della città educativa Vallo di Diano Gennaro Gonnelli Bene, noi andiamo un attimo in pausa pubblicitaria ci vediamo tra poco con la seconda parte Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News si rinnova anche quest'anno la protesta dei pensionati della CISL che ricordano come la chiusura degli uffici postali per ferie e la rimodulazione degli orari comporteranno pochi disagi soprattutto per le fasce più deboli ovvero gli anziani Si rinnova anche quest'anno la protesta dei pensionati della CISL di Salerno che così come negli anni scorso o all'inizio dell'estate lancia l'allarme e le forti preoccupazioni per la chiusura estiva degli uffici postali della provincia in particolare come si legge nella nota stampa nell'avvallo di Diano e nel Cilento sono 65 le succursali pronte alla chiusura per ferie e a Salerno oltre il 50% delle chiusure interesserà le sedi dislocate nei rioni collinari e in periferia mentre in Cossiera Amalfitana il caso limite è a Maiori con 40 giorni di stop iniziati lo scorso 17 giugno e che termineranno a fine luglio il sindacato con tale nota intende denunciare gli eccessivi disagi legati al piano di rimodulazione degli orari estivi che colpisce l'intero salernitano sportelli chiusi al pomeriggio e di sabato orari rimodulati al mattino tutto questo penalizzerà gli utenti siamo costretti a ripeterci ogni estate dichiarano dalla CIS sono scelte legate a mere scelte contabili che non tengono conto delle peculiarità del territorio e delle necessità dei piccoli comuni luoghi in cui le poste assicurano un servizio anche con riferimento sociale l'azienda avrà le sue logiche e ragioni per chiudere alcuni uffici ma la loro chiusura in una frazione o in un piccolo comune comporta gravi problemi per la popolazione e in particolar modo per gli anziani e le fasce più deboli che la Federazione Nazionale Pensionati rappresenta ancora una volta a pagare il prezzo più alto saranno gli anziani le fasce sociali meno evolute affabelizzati dal punto di vista informatico che oggi conclude la nota sono quelli che più di altri utilizzano gli sportelli postali per il ritiro della propria pensione andiamo avanti sono stati giorni indimenticabili quelli trascorsi da Valentino Di Brizzi negli Stati Uniti e precisamente presso la comunità di Glen Cove in occasione della consegna del premio come uomo dell'anno 2016 una grande festa e tantissima emozione si possono riassumere così i giorni che Valentino Di Brizzi un gruppo di imprenditori amici che lo hanno seguito in America ha trascorso a Glen Cove ospite della comunità degli italiani immigrati in America e soprattutto accolto dall'affetto dei suoi tantissimi concittadini di Sassano ad accogliere Valentino Di Brizzi negli USA in occasione della consegna del riconoscimento come uomo dell'anno 2016 assegnatogli dal club sassanesi d'America oltre al presidente del CLEM Tom De Lisa e al vicepresidente Michele Zozzaro anche il sindaco di Glen Cove Reginaldo Spinello che ha voluto partecipare alla grande festa di accoglienza riservata a Di Brizzi presente inoltre il presidente della fondazione delle associazioni dei campani negli USA il cavaliere Nicola Trombetta che si è unito al gruppo dei sassanesi in America per l'assegnazione a Valentino Di Brizzi del premio in segno di ringraziamento per l'impegno profuso a favore del territorio di origine dei tanti campani che nel passato sono dovuti emigrare non soltanto il premio ma la festa e l'accoglienza riservatagli ha fatto vivere a Valentino Di Brizzi grandi emozioni regalandogli anche un grande insegnamento l'affetto sincero ha manifestato il profondo attaccamento dei sassanesi e dei campani in generale alla loro terra d'origine alla loro storia e al luogo che hanno dovuto lasciare pur non riuscendo a tornare spesso in queste terre ha fatto capire quanto forte sia l'amore per le proprie origini e quanta volontà e forza c'è in queste persone nel cercare di non perdere le proprie radici non soltanto il premio come uomo dell'anno 2016 ma tantissimi altri regali quindi hanno reso la permanenza Glencove di Valentino Di Brizzi indimenticabile regali come affetto ospitalità simpatia divertimento e tradizione tutti omaggi che saranno portati nel cuore custoditi gelosamente magari renderli fruttuosi al fine di trasferire anche ad altri che vivono e lavorano nel territorio lo stesso amore per la propria terra che gli emigrati vivono e sentono forte e intenso nonostante la lontananza sono commosso perché al di là di quello che si è detto fino a questo momento devo dire che c'è stata una grande accoglienza un'accoglienza bella un'accoglienza che ricorda anche i tempi passati della nostra Sassano è bella gente quella gente che Sassano dovrebbe sempre avere io li voglio ringraziare perché veramente hanno fatto sì che si avverasse forse un sogno chi mai avrebbe immaginato che la comunità degli americani sassanesi mi potevano chiamare e prepararmi una festa così bella io li ringrazio di cuore ringrazio loro ringrazio la comunità diciamo di tutti gli emigranti che sono stati in Italia e voglio ringraziare i miei amici che mi hanno accompagnato in questa avventura lontananza che però ha portato un grande contributo alla crescita della comunità di Glencove come sottolineato dallo stesso sindaco Reginald Spinello tutta la comunità di Sassano il sindaco è molto proud di tutti noi specialmente perché aiutiamo in tutti i reparti sia che commerciali siamo venuti qui in una grande comunità e anche siamo interessati perché siamo gemellati con Sassano adesso gli italiani immigrati hanno quindi avuto modo di integrarsi alla comunità statunitense ma ciò non ha impedito loro di seguire e restare aggiornati sugli accadimenti della loro terra d'origine ed è proprio per il lavoro svolto da Di Brizzi e il suo impegno per il territorio campano che ha convinto il club sassanesi d'America ad assegnargli il riconoscimento di uomo dell'anno 2016 il presidente ha detto che noi siamo molto bravi perché lui ha fatto tante cose tutte quelle che ha fatto per le sue attività in Sassano in provincia di Salerno e in tutte le parti perciò siamo molto interessati alla sua perciò l'abbiamo chiamato qui per farlo vedere ai nostri concittadini che anche in Italia si può specialmente in Sassano si può continuare a fare una vita e essere involto sia nella politica anche che in industriale commerciale e eccetera parte mia posso dire che sono proud molto onorato di averlo avuto qui oggi insieme con i suoi amici e speriamo che gli piacerà tutto quello che facciamo per lui noi cerchiamo di fare il meglio che si può purtroppo certe volte ci sono dei piccoli dissensi nella comunità ma certe volte si può anche è un onore per noi di averlo qui specialmente con tutti i suoi amici e oggi speriamo che la festa gli piacerà e gli daremo un piccolo riconoscimento e speriamo che ritornerà di nuovo qui a Glencoe e ora agli eventi torna l'attesissimo appuntamento della manifestazione organizzata dai ragazzi dell'associazione Sassano Arte, Cultura e Spettacolo musica, divertimento birra e promozione del territorio ancora una volta al centro della terza edizione della Sassano Beer Fest in programma dal 20 al 24 luglio presso la tenuta Romanelli Torna ancora una volta con grandi appuntamenti il Sassano Beer Fest che dal 20 al 24 luglio presso tenuta Romanelli a Sassano animerà le serate valdianesi con musica gastronomia speciale e tanta ottima birra dalle numerose varietà i ragazzi dell'associazione Sassano Arte, Cultura e Spettacolo hanno già pronta questa terza edizione con un programma ricco di eventi e manifestazioni correlate alla festa e alla protagonista della manifestazione oltre alle diverse birre internazionali che sarà possibile degustare in queste sere a Sassano sarà anche possibile scegliere speciali piatti anche in questo caso di carattere internazionale che si legano con le specialità culinarie nazionali e locali i giovani dell'associazione presieduta da Angelo Ricciardone confermano l'intenzione di regalare agli ospiti del Sassano Beer Fest serate di allegria e divertimento all'aria aperta sempre però nel rispetto delle regole ogni serata di questa terza edizione così come lo è stato per le precedenti sarà animata da spettacoli musicali si partirà già in grante con Gianfranco Cloraglio che sul palco allestito per l'occasione presenterà i suoi ultimi lavori portando il suo tour estasi anche a Sassano inaugurando così l'ormai attesissima festa organizzata dai ragazzi dell'associazione Sassano Arte e Cultura e Spettacolo gli appuntamenti delle serate successive non saranno da meno c'è grande attesa infatti per lo spettacolo che animerà la seconda serata del Sassano Beer Fest con l'arrivo presso tenuta Romanelli del gruppo Banda Bardot il gruppo fiorentino rock costituitosi nel 1993 continuando da allora a raccogliere tantissimo successo ed è seguitissimo soprattutto tra i giovani i Banda Bardot arriveranno quindi a Sassano dove presenteranno il loro ultimo lavoro discografico venerdì 22 luglio sarà il momento della musica country con i The Henry Brothers le ultime due serate non saranno soltanto musica ma anche promozione del territorio e valorizzazione del centro storico con l'organizzazione della caccia al tesoro nel centro storico di Sassano in serata musica con i The Occasional domenica 24 luglio gran finale con lo spettacolo di ballo presentato dalla palestra Salus i cinque giorni di Sassano Beer Fest saranno comunque ancora una volta in grado di accontentare tutte le generazioni dai più piccoli ai grandi riuscendo a coprire ogni ambito di interesse musica sì ma non solo con giochi per i bambini laboratori di birra escursioni aree artigiani ancora una volta a sicurezza di tutti il servizio navetta l'area sarà inoltre dotata di wifi free ed ora lo sport due settimane e poi di parte la stagione degli arbitri con i raduni precampionato importante raduni per la sezione di Sala Consilina impegnata per la prima volta anche nel raduno del Can B con la neopromozione di Robilotta come assistente ma vediamo nel servizio i dettagli e le date del ritiro precampionato a pochi giorni dalla storica promozione in serie B per un rappresentante della sezione di Sala Consilina Manuel Robilotta che sarà uno degli assistenti del prossimo campionato arrivano nuove ufficialità si tratta delle date dei raduni precampionati relativi alla stagione 2016-2017 svolti dai vari organi tecnici nazionali tutti gli incontri che vedranno insieme arbitri assistenti ed osservatori si terranno a Santa Sofia in provincia di Forri Cesena presso la struttura di Sportilia i raduni precampionato vedranno impegnati gli arbitri della sezione di Sala Consilina a partire dal prossimo 23 luglio quando Ivan Robilotta e Massimo Mazzolino ci saranno per il raduno del Cannes di Lega Pro un raduno che durerà fino al 27 luglio dall'1 al 6 agosto invece ci sarà il raduno del Cannes B che vedrà la presenza del neopromosso in gadetteria Manuel Robilotta a fine mese invece dal 27 al 30 agosto Cristian Robilotta sarà in Emilia Romagna per il raduno del CAI all'inizio settembre infine dal 2 al 7 settembre Gian Piero Cavaro e Giuseppe Aumenta saranno presso la struttura di Sportilia per il raduno precampionato del Cannes di calcio a 5 dunque ancora un paio di settimane di vacanze per i fischietti e gli assistenti della sezione valdianese prima della via ufficiale della nuova stagione con questo servizio si conclude l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata a un buon proseguimento a